Io sono arrivato qua nell'89 e sono diventato il custode dell'isola che non volevo vedere nessuno ma per molti anni la mia scelta è stata quella di vivere a contatto diretto con la natura e ricominciare in un modo diverso quello che io reputo che debba essere la vita. L'islanda di Budelli, parte di La Maddalena National Park, si sta sul nord di Sardinia. Si è considerato una delle più belle isle del Mediterraneo. Solo accettabile da un po' maestro, Mauro Morandi, l'inhabitante, prima di arrivare qui 29 anni fa, e non ha mai avuto. un po' di fortuna e ho preso il posto del custode precedente. Guardate, non c'è nessuno. La bellezza è dove non esiste l'uomo. Benvenuti nella mia dimora. Qui non arriva la linea elettrica, perciò ho impiantato dei pannelli fotovoltaici tutta la mia corrente per l'acqua. E' acqua piovana, perché qui non ci sono posti di vene d'acqua. Io qua non consumo niente. Questo è il mio albero di Natale. E questi sono tutti gli oggetti che l'uomo regala al mare, perché è molto generoso l'uomo, no? E' ben diverso la giornata sia d'estate che d'inverno. D'inverno qua non viene nessuno. Leggo moltissimo, una media di 30-40 libri ogni inverno. Io ho sempre detto che ho moltissimi amici, come ti ripeto, questi moltissimi amici sono i libri, che sono quelli che non ti tradiscono mai, anzi ti fanno crescere. Quando conosci questa, non si può dire, la tua isola? La conosco a memoria. I animali, i creatori, quelli che passano. Conosco a memoria, evidentemente sono diventato un po' un botanico. Ecco, questa è la spiaggia rosa. Guardate un po' che meraviglia. Incontaminata. Ed ora non è nemmeno più tanto rosa. Fino al 94 arrivavano 3.000 persone al giorno e tutti, inconsciamente e inconsciamente, ci portavano via la sabbia. Chi volontariamente dentro una bottiglia, dentro bicchieri, sacchetti di plastica, eccetera. Ha impiegato vent'anni a distruggere quello che la natura ha fatto in 10.000 anni. E io non sono più quell'eremita che erano i primi anni. Io avevo messo anzi due cancelli in modo tale che nessuno potesse entrare. Non volevo comunicare con nessuno. Poi mi sono reso conto che godevo solo io di questa bellezza. e mi sono sentito molto egoista, no? Io normalmente mi metto qua. Mi ha trattato molto bene, sai? In 29 anni non mi sono mai ammalato. Nemmeno ho preso il raffreddore l'inverno. Mai. Credo di restarsi fino a che la possibilità fisica me lo permette. Quella psichica mi va bene perché sono convinto dopo tutto quello che sto lavorando sul mio cervello. Sono ancora molto sereno, tranquillo e vivo molto bene anche da solo. Io amo Budelli. E Budelli sembra quasi che ami me. Ma io penso di sì. Ciao, mio nome è Jacob. Ho produito questo film. Se volete vedere un altro video di Sardinia, seguite il link sotto.